Il sindaco Seri e la sua maggioranza hanno gettato la maschera. Sono bastati due consigli comunali per rimangiarsi quello che avevano affermato in campagna elettorale. È al vetriolo il commento della Lega Fano sull'operato dell'amministrazione comunale nei suoi primi cento giorni dal suo insediamento. Prima prendono i voti dai cittadini e poi si rimangiano tutto, commenta il capogruppo della Lega, Luca Serfilippi. Inoltre, aggiungono dalla Lega, ci sentiamo soli all'opposizione dopo la debacle elettorale del Movimento 5 Stelle appiattito tra l'altro anche nelle dinamiche nazionali e che pensa ai monopattini piuttosto che alle cose serie per Fano. Per ora comunque incassiamo l'unanimità del Consiglio sulla nostra mozione a riguardo della Fano Grosseto che con il ministro Toninelli aveva preso la giusta direzione ma che ora è nuovamente nel Pantano. Fano Grosseto che non interessa al PD pesarese che la stessa mozione ha bocciato in Consiglio facendo capire abbastanza chiaramente che l'alternativa alla Quadrilatero non è una loro esigenza pur di penalizzare Fano. Noi abbiamo voluto dare un impulso forte a questa amministrazione per quanto riguarda le infrastrutture perché con la Quadrilatero la nostra economia in particolar modo e il settore turistico è in grandissima difficoltà quindi abbiamo bisogno di uno scatto sulla Fano Grosseto, tutti i partiti devono collaborare affinché già nel 2020 vengano messe le risorse a disposizione anche per il tratto marchizzano e toscano. Quindi ora lavoriamo tutti insieme per portare a casa quest'opera fondamentale per il nostro territorio. Diversi sono i calici amari secondo la Lega che stanno facendo bere agli elettori, Seri e la sua giunta. In primis quello del digestore anaerobico che secondo la Lega il primo cittadino ha intenzione di realizzare nel territorio fanese con lo scopo di affossare il gioiello di casa Aset in un'operazione finanziaria molto discutibile e che renderebbe però così la partecipata a un boccone facile facile per marche multiservizi. Ed ultimo ma non ultimo il megacentro commerciale cammuffato da Cittadella dello Sport che si vorrebbe realizzare a Chiaruccia in combutta con il patron dell'Alma. Per quanto riguarda Chiaruccia questa sarà una speculazione di una portata colossale. Si parla di un nuovo stadio con annessi campi da calcio da 11, da 8 e campi da 5 ma è tutto mascherato da una speculazione commerciale di portata veramente colossale. Il nuovo digestore parlando sempre delle tre tematiche che non c'erano mai state comunicate in campagna elettorale o meglio a cui era sempre stato detto il contrario il nuovo digestore si farà avrà una portata extra provinciale perché porteremo a Fano tutti i rifiuti della provincia di Pesaro e potenzialmente anche quelli della provincia di Ancona tenendo conto che tutto questo porterà a Fano volumi di 150 tonnellate al giorno di Forsu cioè la frazione organica del rifiuto solido urbano che sappiamo tutti essere molto maleodorante e che quindi porterà a Fano un grandissimo disagio. La discarica di Monte Schiantello, ultimo tema mai detto, un ultimo tema celato da serie in campagna elettorale chiaramente prevede l'allargamento della discarica per riuscire a conferire ulteriori rifiuti non pericolosi.